Perché Napoli viene scelta sempre di più, Sindaco? Lei se lo spiega? Perché è affidabile, credibile, bella, c'è capacità organizzativa, c'è professionalità e in questo momento aggiunge un brand che non c'è da altre parti, umanità, solarità, riscatto. C'è molta depressione in giro nel mondo e anche nel nostro paese e questo ci fa affrontare meglio anche i problemi che continuano ad esserci, sia ben chiaro, ieri c'è stato un comitato provinciale per l'ordine della sicurezza pubblica, molto delicato, dove anche io sono tornato su alcuni argomenti, c'è un tema sicurezza in città, è inutile che ce lo nascondiamo, come c'è in tante altre città del mondo, però oggi possiamo dire che la stragrande maggior parte dei napoletani e l'amministrazione comunale hanno messo in campo un'azione che nella bilancia fa pesare molto di più le cose positive. Ecco perché chiediamo soprattutto alle altre articolazioni dello Stato di fare sempre di più sul tema della sicurezza, perché oggi il tema centrale del domande che mi vengono poste in città è più sicurezza, meno rapine, meno scippi e meno stese. Questo non è un tema che possiamo chiedere ai napoletani onesti o all'amministrazione comunale, è un tema dello Stato che come sapete anche con puntualità di argomentazioni io pongo da sei anni a questa parte, in ogni momento crediamo anche di aver dato il nostro contributo di indicazioni su cui andare, quindi ci auguriamo che da questo punto di vista, non dimentichiamoci che ci fu un impegno ben preciso del Ministro dell'Interno, che ci sarebbero stati dei risultati importanti in città da un punto di vista investigativo e giudiziario.